Non è andata bene in Coppa, una sconfitta da archiviare subito perché alla porta c'è la partita con la Gelbison importante per continuare questa marcia di avvicinamento a uno scontro diretto che potrà dire che il Pescara può battagliare veramente per questa Serie C. Sì, dispiace per essere usciti perché comunque volevamo andare avanti in tutte e due le competizioni però dobbiamo guardare avanti, stiamo facendo un ottimo campionato e dobbiamo subito prepararci per la prossima partita. Ieri il mister non era contento, soddisfatto della prestazione alla fine della partita che cosa vi ha detto alla ripresa degli allenamenti? Quello che ha detto in conferenza, ovvero che l'atteggiamento non è stato dei migliori e non è stato l'atteggiamento che abbiamo avuto nelle partite precedenti. Come mai questo atteggiamento sbagliato, questa partita sottotono? Ma è sempre difficile trovare il perché, però sono cose che capitano e ormai la partita è passata e dobbiamo concentrarci sulla prossima. Di gol ne facciamo, ieri è stata una giornata che non si è riuscita a farne però non c'è da pensarci troppo, come ho detto prima pensiamo di partita in partita e adesso ce n'è subito un altro. In vista della prossima partita sicuramente Vergani sarà uno di quei giocatori pronti a subentrare o magari hai la possibilità anche di giocare dall'inizio? Quali sono le tue sensazioni? Non lo so, le scelte non le faccio io ovviamente, un giocatore spera sempre di giocare titolare o comunque di subentrare, però non dovete farla a me questa domanda. Le tue sensazioni in questa prima parte di campionato a Pescara, come te lo aspettavi? No, personalmente sto andando in crescendo, come anche la squadra. Eravamo partiti con dei passi falsi e adesso siamo trovando la nostra continuità e dobbiamo continuare così.